Che cosa hanno in comune questi due? A sinistra avete il dottore nel 2001 su una NSR 500 a miscela. Non sono sicuro dove sia stata scattata la foto di preciso, sorry, però fate finta che sia Erez. A destra invece avete David Alonso, lo spagnolo travestito da colombiano che è talmente spagnolo che il passaporto colombiano sicuro l'avrà fotocopiato o photoshopato. Anche lui ha Erez su una Moto3 KTM nel suo caso. Cosa hanno in comune? Bella domanda, no? Qualcuno avrà già dato le risposte più semplici, no? Vanno in moto tutti e due, vanno forte in moto tutti e due anzi, talento, tutti e due col sorrisino, eccetera eccetera, però niente di tutto questo. La cosa in comune più importante che hanno Valentino Rossi su una NSR 500 a miscela nel 2001 e David Alonso su una Moto3 KTM nel 2024 è il fatto che entrambi ci mettono un minuto e 43 a fare il giro di Erez. Che poi, a dirla tutta, nei test prestagione di quest'anno, Rueda ha fatto 1,43 e 2 e Alonso ha fatto 1,43 e 3, quindi addirittura più forte delle 500 di una volta. I tempi dei test non valgono per il record e quindi non li trovate scritti da nessuna parte di storico, ma valgono per le chiacchiere e quindi chiacchieriamo. Comunque Alonso domenica è stato colto da ruchinaggine e si è stesso subito appena partiti. Avrebbe potuto vincere con ampio margine, ma vabbè, ci sta. Ah, e parlando della caduta di David Alonso, vedete che lo screenshot che ho usato è preso dallo streaming della RSI, canale in italiano sulla TV svizzera. La settimana scorsa vi ho fatto un tutorial su come si fa a guardarlo dall'Italia usando NordVPN, che è lo sponsor di questo video ovviamente, e dopo un po' ho ricevuto un messaggio che diceva, ah tutto bellissimo, però dal cellulare non funziona, è bloccato. Però in realtà funziona alla grandissima anche da telefono, quindi provate e riprovate, insistete. E a questo punto tutorial da cellulare. Ricapitolando, se andate sullo streaming della RSI dall'Italia, normalmente vi trovate davanti questo. Il primo consiglio è di non aprire niente per vedere che non funziona, ve lo faccio vedere io, così poi magari evitate di dover rifresciare la pagina un paio di volte o aprire una tab nuova, eccetera. Io ve lo faccio vedere a scopo dimostrativo. Voi aprite direttamente NordVPN, selezionate la Svizzera, una volta connessi cercate RSI, streaming, moto mondiale o qualcosa di simile e guardate le gare dal telefono. Se provate NordVPN usando il mio link che trovate sotto al video riceverete uno sconto esclusivo sui piani biennali più 4 mesi gratis, con ovviamente 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati che Nord vi garantisce sempre. Provatelo, grazie Nord. Adesso parliamo di Pedro. La cosa buffa è che nominando Pedro dopo la gara di domenica sembra come esserci un'incombenza, qualcosa di pesante da affrontare, no? Una sorta di sbuffo. Perché dici, eh, bisogna parlarne purtroppo. Come se il decimo posto in gara fosse una sorta di sconfitta. E anzi, sicuramente qualche pazzo che non era ancora salito sul carro di Pedro avrà anche detto, dice, ah, vedi, ho fatto bene a non salirci, lo sapevo. Ha fatto decimo, è arrivato dietro Binder. E invece, ovviamente, basta grattare un pochino la superficie della storia per capire che il decimo posto di domenica è l'ennesima dimostrazione di quanto sia forte e speciale Pedro. Non è palese per tutti e quindi vale la pena fare lo spelling. L'errore principale che ha fatto Pedro a Erez è stato in qualifica. Si è steso, per colpa sua, all'ultima curva dopo aver fatto un giro assolutamente a cannone. Aveva decimi e decimi di margine e se l'avesse portato a termine sarebbe stata Paul provvisoria e in griglia si sarebbe giocato l'ultima casella dalla prima fila con Martin, perché sostituendo il suo ultimo settore dove è caduto con l'ultimo settore di un giro veloce fatto prima della caduta, viene fuori un approssimato 1.47.140 che è da prima fila. E tutto questo si è svolto sul bagnato, che era forse la seconda volta per Pedro sul bagnato su una MotoGP. Invece però si è steso, quindi giro perso, qualifica compromessa e da lì è iniziata la salita. Però attenzione, non è iniziata solo la salita. Nello stesso istante è iniziata anche la dimostrazione della sua forza, perché davanti agli inconvenienti c'è una reazione, i piloti reagiscono e le reazioni sono quelle che alla fine interessano noi. E nel caso di Pedro è esattamente quello che abbiamo avuto, una serie di reazioni fenomenali o comunque significative, perché Pedro oltre ad essere Pedro è anche un rookie e quindi tanti fattori in gioco, le reazioni ci danno la misura del talento, del manico di chi stiamo guardando. Pedro cade, solo una scivolata, ritira sulla moto e riparte. Ha tempo per fare altri due giri lanciati, li fa, riesce solo ad eguagliare il suo miglior giro del run precedente e quindi non si migliora. Decimo, quarta fila, che è un mezzo disastro. Nella garetta però va a podio, ne abbiamo già parlato nel video di sabato, sapete come la penso. La cosa importante comunque è che per la garetta Pedro impara dall'errore nelle qualifiche e mentre tanti erano caduti per errorini e sbavature per via delle chiazze di umido, lui l'ha portata a casa. Poi però, pur avendola sfangata per il sabato, la domenica mattina nel warm up c'è il primo botto grosso di Pedro in MotoGP. Rotolamenti e sbattimenti di tutti i tipi perché l'ha persa in un punto velocissimo e lo sapete bene che i botti grossi, anche senza alcun tipo di infortunio, sono comunque eventi che segnano i piloti in qualche modo. Perché ti tolgono confidenza prima di tutto, oltre che il fiato, e poi se stai facendo progressi, turno dopo turno, perché sei un rookie e perché ti chiami anche Pedro, interrompono un po' la progressione, perché devi ricalibrare la testa, no? Comunque, moto distrutta, la seconda moto diventerà la sua prima per la gara e tutti i meccanici gas gas più quelli KTM ufficiali a lavorare insieme per sistemare quella distrutta. Ci riescono e Pedro è pronto per la gara. La partenza però, Pedro la canna totalmente. Come mai l'ha sbagliata? Voglio dire, le KTM sono famose per le partenze a bomba, farne una indecente come quella di Pedro sembra impossibile. E invece no. Il motivo ce l'ha spiegato Pedro stesso e cioè c'è stato un errore suo. Sì, era sicuramente lecito pensare che il motivo della cattiva partenza di Pedro fosse la prossimità a Maverick, che gli partiva vicino. Ci abbiamo pensato tutti, lo so, però non è quello il motivo. L'errore di Pedro era legato alla frizione. In MotoGP, a parte regolazioni specifiche o assetti particolari che decidono di fare su una moto e non sull'altra, le due moto che i piloti hanno a disposizione sono identiche in tutto e per tutto. Stesse parti, stesse misure, stesso tutto, sulla carta sono intercambiabili. Ma ovviamente nel mondo reale il feeling che restituiscono non è mai identico, perché tra una moto e l'altra cambia sempre qualcosina e non tutti i piloti reagiscono allo stesso modo. Due esempi classici agli estremi anche in questo caso sono Rossi e Marquez. Uno se gli spostavi un adesivo andava un secondo più lento, Marquez se gli mettevi un cappuccio in testa, fai un giro tondo e lo mettevi sulla moto diversa, neanche se ne accorgeva. O meglio, il tempo sul giro non ne risentiva. E poi comunque, visto che si parla di frizioni, non solo c'è differenza tra una moto e l'altra, c'è differenza anche tra una moto con la frizione che ha fatto un turno e la stessa moto con la frizione nuova. L'errore di Pedro da Ruki è stato quello di non aver tarato la sua testa alla frizione della seconda moto. O magari di non aver provato un paio di partenze prima di andare in griglia. Insomma, non so di preciso cosa abbia fatto o non fatto, ma la frizione diversa l'ha fregato. Ed è un errore tutto suo perché non c'è stato un malfunzionamento. Errore che però, vi assicuro, non commetterà una seconda volta. Perché è stato anche questo il bello di Pedro fino qui. Ha fatto errori, ma ha sempre imparato la lezione e migliorato. Che è fighissimo da vedere. Poi, alla prima staccata, è stato inghiottito. E questo sì che è un caso di maverickaggine acuto. Dopo la staccata alla Maverick ha preso anche una cannonata da zarco, così per gradire, e da decimo che era partito si è ritrovato diciottesimo. Da lì, sorpassa qui, sorpassa là, incluso un sorpasso anche a Miller, ha chiuso decimo. E ragazzi, è un garone. Perché un rookie dovrebbe metterci la firma a fare una top ten in questa MotoGP, noi invece siamo qui a discutere una mezza delusione, che la dice lunghissima sulle aspettative e ovviamente anche sul suo potenziale. E adesso Francesco. La gara di Francesco è stata storica. Aspetta che lo ripeto. La gara di Francesco è stata storica. Se ci fosse un libro del motociclismo con scritte tutte le cose fondamentali delle gare di moto, la gara di Francesco a Erez 2024 sarebbe su quel libro insieme alle cose importanti. E bisogna fare lo spelling perché qualcuno probabilmente vorrà dimenticarsela alla svelta, questa gara. E poi dopo appena Francesco starnutisce, dice, ah, starnutito, questo sarebbe un campione. Capito, no? E comunque non è che ha fatto una cosa bene, ne ha fatte una serie. Come è partito, il dove si è messo nei vari momenti, quanta aggressività ci ha messo, il come si muoveva, è stato perfetto. Poi vabbè, il sorpasso doppio su Bezzecchi e Martin non c'è neanche bisogno di parlarne. Quando gli altri hanno frenato, all'esterno si è vista a partire tipo una fiondata che sembrava uno che si era scordato la curva, no? Dici, oh, aspetta che c'è uno che va dritto. Poi invece no, con un quarto d'ora di ritardo rispetto agli altri, inizi a frenare anche lui e la curva la fa normalmente. E tu rimani lì a guardare come un fesso, ragionando sui misteri dell'universo, senza però trovare risposta. E non è che quella fosse l'unica cartuccia della giornata, era solo l'inizio. Perché da lì Marquez che era davanti ha fatto un errorino all'ultima curva andando leggermente largo e Francesco si è infilato. Alla staccata in fondo al dritto Marquez ha risposto rinfilandosi e Francesco ha risposto incrociando e si è tirato dietro anche Martin. Quindi Francesco davanti, Martin dietro, Marquez terzo nel giro di due curve e un rettilineo. E siamo ai primi minuti. Alla fine di quello stesso giro Francesco fa l'unica sbavatura di tutta la gara e cioè va largo all'ultima curva. Si infila Martin e va davanti, Marquez ci prova in staccata alla 1 ma Francesco frena forte e resiste e si rimettono a trenino. E lì è partito il secondo capitolo. Perché Francesco si è incollato a Martin per quasi dieci giri e non lo ha mollato un attimo. Lo ha tormentato. Gli stava a un metro e gli ha fatto vedere la ruota davanti più di una volta. E adesso qualcuno ovviamente vorrà la risposta alla domanda da un milione di dollari. Martin è caduto perché Francesco gli ha messo pressione? La domanda si risponde da sola con un ragionamento molto semplice. Martin in passato ha fatto errori simili anche quando era da solo? Sì, ma allo stesso tempo secondo voi è piacevole avere il vostro avversario diretto a due decimi attaccato dietro per dieci giri? Ovvio che no. Voi dovete immaginarvi Martin che passa sotto al traguardo 7-8 volte e a ogni passaggio la tabella dice più zero Francesco, più zero Francesco, più zero Francesco e poi senti il rumore di Francesco e poi vedi una ruota di Francesco e poi passi sotto al traguardo e c'è scritto più zero Francesco, più zero Francesco. Non è pesante, è estenuante e quindi è inevitabile che la presenza di Francesco abbia influenzato le scelte di Martin di spingere un pochino di più, di tirare un pochino di più, di azzardare un pochino di più. Quindi la risposta è sì. Da lì Francesco si è messo davanti e poi è arrivato lo showdown finale con un Marquez finalmente in forma e finalmente con un mezzo degno del soggetto che ci è seduto sopra e poi ovviamente ne parliamo. Finisco su Francesco dicendo che per infiocchettare il tutto ha vinto lo scontro diretto con l'alieno a sportellate. Ah, aperta e chiusa parentesi, sportellata che ci è piaciuta, sportellata che era dura, decisa e che se avesse buttato giù l'altro avrebbe fatto discutere non poco e sportellata che a parti invertite avrebbe fatto discutere ancora di più. Quindi per come la vedo io, quello è il limite e a me piace quando i piloti arrivano a quel limite pur di vincere ma che vanno sempre contestualizzate. Chiusa parentesi, dicevo Francesco che ha vinto lo scontro diretto con l'alieno a sportellate e poi se non bastasse gli ha schiaffato il giro record della pista al terz'ultimo giro per scrollarselo di dosso. Cioè, altro ragazzi, è stato incredibile, una goduria dall'inizio alla fine. E dico anche che, senza nulla togliere la vittoria di Aragon, questa ha tutto un altro significato. La battaglia con Marquez ad Aragon qualche anno fa era stata interessante da vedere, però Marquez era nelle condizioni di essere al massimo un fastidio per Francesco. Qui invece no. Qui c'era un Marquez pronto sulla moto giusta in una pista dove l'ultima volta che ci ha corso in forma con una moto decente aveva passato tutti i suoi colleghi dall'ultimo al secondo, quasi come se ci fosse stata una MotoGP in pista contro delle Moto2. Aggiungete la scaramuccia a Portimao di quest'anno. Aggiungete il fatto che sembra ci sia la possibilità che diventino compagni di squadra e la vittoria di Francesco a Erez diventa gigantesca sotto tutti i punti di vista. E la cosa figa è che non sembra sarà l'ultima. Per quanto riguarda Marquez ragazzi dico che finalmente sembra lui, gli manca ancora qualcosina ma c'è. Io già ero lì che mi lamentavo perché non lo avevo visto convinto, mi sarei aspettato di più e le cadute, questo e quello e invece direi che più o meno c'è, è arrivato. Era questione di tempo, lo sapevamo, adesso è arrivato e l'ha detto anche lui. Sulla storia che la Moto24 è meglio, l'altra è peggio e tutti questi discorsi vi faccio io una domanda. Quanto volete che sia grande la differenza tra le due moto? Secondo me al momento è assolutamente zero la differenza per quel che riguarda i risultati della domenica. Nel senso che se date una 24 a Marquez adesso, sapete che succede? Che butta via altri 3 o 4 weekend per capirla e impararla per quale guadagno. Francesco mi sembra abbia detto che è meglio in frenata quella nuova. Bene, Marquez è appena sceso da una Honda. Sapete che gliene frega a Marquez della differenza in frenata tra la Ducati nuova e la sua? Ve lo dico io, niente. E secondo voi, no? Qual è la differenza maggiore tra la, che ne so, stabilità in frenata tra la 22 e la 24 o la differenza che c'è tra un Augusto Fernandez e un Marc Marquez? Anche questa si risponde da sola e non sto insultando Fernandez, è solo un esempio di uno che sta faticando. Dico solo che oltre un certo livello la differenza la fa il pilota, non le moto. E guardate l'ordine di arrivo di domenica. Anche includendo Martin ci sarebbe stato un mix abbastanza omogeneo di moto 23 e 24. Poi è chiaro che il Rez non è la pista più indicativa di tutto il mondiale, bla bla bla, ma ci siamo capiti. Quindi la 24 è meglio o peggio della 23? La risposta è dipende da chi la guida. Proseguendo col discorso, bello vedere Bezzecchi davanti un'altra volta perché serve anche lui nella mischia e serve lui prima del podio soprattutto. Qui stava parlando con Francesco della curva 8, adesso vi metto anche l'audio. Il tema è che c'era un po' d'acqua alla 8 e Bezzecchi non riusciva a farla. E dice a Francesco di aver imparato a fare la 8 guardando Marquez in gara, che è il lui in quello che state per sentire, e poi aggiunge un po' di colore al tutto. Per tutti gli altri direi che Aprilia ha fatto l'Aprilia in qualifica e sono partiti dietro. Maverick ha fatto un po' di partenza in partenza, poi ha risalito. In generale però direi cancella tutto e se ne riparla Lehmann. Aleish ha spento il cervello per mezzo secondo ed è entrato dentro Zarco. Morbidelli sembra anche lui aver spento il cervello per mezzo secondo e si è buttato sotto a Miller. Bestia al solito è un po' a rilento all'inizio e poi non è riuscito a tornare su perché a passare Binder è tutto un programma. E Rezze era piena di gente, bello spettacolo. Lehmann sarà piena di gente perché è sempre piena e quindi contro spagnoli francesi, comprate i biglietti e andiamo tutti al Mugello, no? Mugello, queste pubblicità fighe, almeno una bevuta, eh?